Il ruolo della Capitaneria di Porto alla vigilia del suo 150esimo anniversario. A Piscara si sono incontrati i rappresentanti delle istituzioni, i docenti universitari e studiosi per realizzare un quadro che comprenda diritto, tutela e responsabilità della Guardia Costiera. Per quanto riguarda il corpo delle Capitanerie di Porto, la funzione principale è quella del soccorso in mare. Insieme al soccorso in mare c'è tutta l'attività amministrativa dei porti e di tutto ciò che avviene nel mare. In particolare quella che è la situazione abruzzese, quali sono le competenze che vengono richieste di più? Il lavoro in Abruzzo che il corpo delle Capitanerie di Porto cerca di mettere in atto, attua e abbastanza articolato in virtù della mancanza delle autorità portuali nei porti principali dell'Abruzzo, ossia Vasto, Ortona, Pescara. Parto da Vasto perché è solo una descrizione geografica partendo da sud, compreso anche quello di Termoli nel caso del Molise perché la direzione marittima di Pescara abbraccia sia Abruzzo e Molise. Non c'è l'autorità portuale e quindi molte funzioni da questi svolti in altri porti di interesse nazionali più grandi presenti nel nostro paese e vengono svolte dalle Capitanerie di Porto. Il 20 luglio si celebreranno i 150 anni del corpo con manifestazioni che coinvolgeranno tutte le regioni dello stivale e Pescara da parte sua prepara la solennità che coinvolgerà l'intera cittadinanza. Ogni singolo compartimento, ossia Pescara che ha la duplice veste di compartimento marittimo e di direzione marittima, Ortona e Termoli organizzerà delle cerimonie con il territorio perché il nostro principale interesse è condividere con il territorio in cui operiamo.